Siamo alla vigilia di Arezzo Vispesaro con il direttore generale Paolo Giovannini, facciamo il punto della situazione prima di questa gara, le ultime otto partite, il rush finale del campionato, Arezzo che ne deve giocare cinque in casa e tre fuori assieme alla fermana, diciamo, detiene questa possibilità. Reglateri dal calendario per un ordine di precisione, le canatesi Rimini invece dovranno fare il contrario, quindi giocheranno solo tre partite in casa. Che cosa può significare questo Paolo? È un dato importante, è fatto bene a sottolinearlo perché ci vede coinvolti in una serie di partite, analizzando anche squadra per squadra, che tutte hanno una rilevanza molto importante. Le cinque gare interne sappiamo quanto benissimo sia di supporto ad Arezzo la curva, sappiamo benissimo quanto ci tengano i ragazzi a vincere e andare a risultare sotto la curva a fine gara e quindi cinque partite in casa su otto potrebbero rappresentare un piccolo vantaggio per noi. E poi c'è queste tre trasferte che per una ragione o per l'altra hanno tutte una valenza importantissima. Una perché Pineto comunque sia un punto da noi, anche loro sono desiderosi a 37 punti, credo di voler raggiungere un posto nel playoff. Lucca è sempre un derby, anche loro a 36 non sono assolutamente tagliati fuori dalle prime dieci posizioni. E poi l'ultima alla trasferta di Perugia che si sa quanto è importante per le due città, per le due realtà, per i nostri tifosi. Quindi per un motivo o per un altro sono veramente un rush finale che sono contento di disputarlo e che mi aspettavo un pochino tra le righe che si potesse arrivare nonostante la sconfitta di Gubbio, che si arrivasse a otto giornate dalla fine in zona playoff e con la possibilità di centrare non solo il minimo obiettivo che era quello della salvezza ma quello di farlo magari in maniera tranquilla e perché no andare magari a farci qualche partita di playoff. È normale che la squadra sia stata costruita sin dall'inizio con un budget non da primissime posizioni, non è per prendere i meriti o per valorizzare il lavoro mio e di Nello ma comunque sì abbiamo portato in squadra ben 14 debuttanti in categoria, tanti vengono da aver vinto un campionato, molti sono giovani abbiamo quasi sempre giocato col minutaggio quindi facendo giocare 4 o 5 ragazzi perché inevitabilmente ne abbiamo in rosa così tanti non per una questione economica però il Presidente ha fatto tanti investimenti da un punto di vista infratturale, ha saldato tanti debiti del passato quindi arrivare in fondo e disputare i playoff e aver azzerato i debiti vorrebbe dire aver messo un ulteriore mattoncino per una programmazione che mi sento di fare, che mi sento di, non dico di promettere o di garantire ma che secondo delle linee guida che avevo tracciato con il Presidente due anni fa mi sento in questo momento di aver rispettato e perché no speriamo nel medio periodo di tornare anche noi in quella categoria che l'Arezzo ha fatto per nove anni. Quello di Gubbi è stata l'ultima partita di turno infrasettimanale della stagione e ovviamente al di là dei ragionamenti e delle valutazioni che si possono fare sul turnover il fatto di aver fatto comunque un turnover ampio nella partita di Gubbio magari può regalare proprio per la partita con la Vispesaro qualche piccolo vantaggio. Ma sì, guarda sottolineerei un aspetto, quando un allenatore avanza la stampa al di là che uno sia più contento perché vedo che è dibattito al di là del giocatore sbagliato, del giocatore che non ha reso, del giocatore che non è in forma ecco anche tutte queste rotazioni che vengono imputate al mister e da un lato mi danno anche fiducia per questo finale di campionato perché non vedo nessun giocatore con la pancia piena e tutti credo che siano desiderosi di una riconferma qua ad Arezzo e quindi questo minutaggio un po' alternato fa sì che non si arrivi con giocatori che abbiano disputato 28-29 giocatori e con il rischio che qualcuno abbia la pancia piena perché abbiamo raggiunto la salvezza o come si dice in alcuni casi abbia finito la benzina perché hanno giocato sempre i soliti quindi mi auguro che questo rappresenti un vantaggio, poi le rotazioni che siano giuste o che siano sbagliate negli omini o negli interpreti non tutti si può essere sempre d'accordo però questo fatto di aver gestito le forze e che qualcuno faccia degli esempi un po' così tanto per far capire meglio il concetto io credo che i Damiani, i Gaddini, i Chiosa abbiano fatto un minutaggio che li permetta ancora di dire tanto in questa stagione sono otto partite, sono poche ma sono ancora tante per poter dimostrare il proprio valore e comunque per tirar fuori quello che hai dentro e secondo me questi ragazzi hanno ancora tanto dentro da dare e credo che vogliono arrivare più in alto possibile poi dobbiamo mettere in conto che la domenica si vince e si perde ma quello che conta è l'obiettivo finale non mi sono mai sognato di avere una struttura, un impianto di gioco, di base o di squadra come Gubbio, Carrarese, squadre che ci precedano perché vengano da stagioni molto più importanti delle nostre, noi veniamo da un campionato di serie D dove abbiamo deciso di promuovere tanti giovani stiamo raccogliendo i frutti perché insomma il rifiuto della richiesta di Pattarello, le occhi addosso sui vari Damiani, i Gaddini insomma stiamo facendo un lavoro tracciato, un sentiero che non può assolutamente permetterci di essere competitivi subito in questa stagione perché poi naturalmente questo percorso va accompagnato e viene spesso accompagnato da inesperienza e anche dalla conoscenza della categoria perché sì, l'Arezzo la conosce benissimo però non ci dimentichiamo che viene da una retrocessione da due anni di serie D quindi c'era da ricominciare a riprogrammare ma sono convinto che nel medio periodo riusciremo a toglierci delle grandi soddisfazioni L'ultimissima battuta sulla Vispesaro, l'avversario di turno, sicuramente in questi giorni ovviamente dando un'occhiata anche alla rassegna stampa dei giornali di Pesaro come facciamo sempre in vista della partita e quindi in funzione del prossimo avversario si capisce che è un ambiente tutto sommato abbastanza tranquillo perché anche la Vispesaro sta facendo quello che più o meno si aspettava adesso ovviamente tentando di fare l'ultimo sforzo che è quello di tenersi fuori dalla zona play-out Sì, è una squadra che vista anche al cospetto delle big, mi riferisco vedendola giocare col Cesena, col Pescara, con Carrarese con squadre insomma di livello credo che sia stata la più continua a livello di prestazioni ho sempre visto una squadra esprimersi quasi sempre su uno stesso livello noi per esempio abbiamo un po' di rammarico per aver toppato partite come Adolbia, come Ancona non l'ho soltanto io, lo ha sicuramente anche il mister, i ragazzi ecco loro credo che abbiano una continuità di rendimento che fa sì che abbiano una classifica eccellente perché comunque sì anche loro non sono stati sicuramente costruiti o hanno un budget per stare nelle primissime posizioni però è una squadra da starci molto attenti perché la partita e la prestazione la tirano sempre fuori poi non voglio fare retorica e devo dire che è una partita anche alla nostra portata per quello che i ragazzi mi hanno fatto vedere in settimana è un po' di rammarico